La Procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto rinvio a giudizio per una 42enne di Vittorito accusata di omicidio stradale per la morte di Maurizio Colabberardino, il tabaccaio di Raiano deceduto nello schianto sulla strada statale 5 il 25 luglio 2022. Il giudice per le udienze preliminari Alessandra De Marco ha fissato l'udienza per il prossimo 7 marzo vista la richiesta depositata dal sostituto procuratore Edoardo Mariotti. Le accuse a suo carico sono state confermate all'esito dell'attività investigativa che aveva portato la Procura a disporre una doppia perizia, quella autoptica sul corpo di Colabberardino, quella cinematica volta a ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro mediante accertamenti specifici sui mezzi, sulle velocità, sulle condizioni della strada. La donna quel giorno guidava la sua Dacia, proveniva da Raiano in direzione Vittorito quanto mentre svoltava verso il bivio. Non si sarebbe accorta della Suzuki condotta dal 66enne diretta Raiano proveniente da Corfinio. Dopo l'impatto sono scattati subito i soccorsi per l'uomo tabaccaio assai conosciuto in paese, trasportato in eleambulanza presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove purtroppo non è riuscito a sopravvivere ai traumi interni riportati. La procura nello specifico contesta la 42enne la colpa, consistita nel non aver ceduto la precedenza a sopraggiungere del motociclo, nell'aver iniziato una manovra di svolta a sinistra, senza accertarsi che la stessa poteva essere effettuata in sicurezza sulla base della posizione, distanza, direzione del motociclo, ma c'è di più. Sempre secondo l'accusa e le risultanze della perizia, la conducente della vettura avrebbe utilizzato il proprio dispositivo cellulare alla guida, inoltrando un messaggio vocale, leggendo una conversazione sulla messaggistica, una serie di contestazioni che hanno portato il PM a chiedere processo, il GUP a fissare l'udienza.